Non si arresta la scia di sangue, ennesimo omicidio nel napoletano. Dopo l'agguato in cui ha perso la vita ad Afragola, Remigio Sciarra, l'ottavo omicidio avvenuto in pochi giorni, teatro dell'ennesimo agguato di matrice camorrista e torre annunziata. La scorsa notte un commando ha fatto fuoco contro Alberto Benvenuto Musto, 32 anni già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è giunto cadavere all'ospedale di Bosco Trecase. Sul caso indagano i carabinieri di torre annunziata che al momento hanno accertato che la vittima, mentre viaggiava a lungo via Roma a bordo di una lancia in compagnia di un coetaneo, del quale però non sono state ancora fornite le generalità, è stato avvicinato da due persone in sella a uno scooter e col volto coperto dai caschi integrali, che hanno esploso diversi colpi contro Musto senza lasciargli scampo. I militari dell'arma, nel corso di un sopralluogo poi sul posto, hanno rinvenuto 10 bossoli calibro 9.